Grazie a tutti. E che questo sia il lievito del nuovo polo e il nuovo polo sia il lievito di un nuovo quadro politico che è la condizione perché l'Italia esca da questa condizione di degrado istituzionale e di assenza di governo che la fa andare indietro e le impedisce di affrontare sfide enormi e grandi tragedie come quella umanitaria che stiamo vivendo. Grazie 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 Grazie